Lain 1, Corsia 1, Yasmin Fantzaki, Police Club Team, Lain 2, Corsia 2, Aurelia Fantoni, Mojero, Lain 3, Corsia 3, Lea Pasqualotti, Charbonne, Natation Plongée, Lain 4, Corsia 4, Camille Hayes, Lain 5, Corsia 5, Giorgia Viero, Lain 6, Corsia 6, Stefani Figueroa, Estudiones, Lain 7, Corsia 7, Marine Grosjean, Iñaki Penatación, Lain 8, Corsia 8, Nora, Rosalia Q, Police Club Team. Lain 5, Corsia 5, Corsia 5, Corsia 5, Corsia 5, Corsia 5, Corsia 6, 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 Corsia 6 e siamo alla tirata di Metacar in prediposizione della corsia 4 per la vita 1000 E 46.68 il dato della piastra Camille Harris che è attrittata con un tempo di 1.34.94 ultimi 25 metri ed è una testa testa tra la corsia 3 e la 4 ma sta spuntando nettamente la 4 che va a chiudere con un ufficioso di 1.36.90 one minute Camille Harris Toulouse Olympi di Palm Fran partita anche questa ultima serie di 200 moto pinnato a seguire la premiazione dei 50 bipin per le paginazione dei 50 metri a seguire la paginazione dei 50 metri In questa serie è Stefano Piccini, uno 22.47, il tempo migliore di istruzione, mentre va a virare in corsia 5 l'atleta colombiano Juan José Mandescano, 41.38. Ultimi 25 metri in questo istante. La rimonta della corsia 4.